Pretendeva un pizzo di 200 euro da versare ogni mese, ogni volta che percepiva la pensione. Un incubo per un anziano signore di Barcellona, 85 anni, che da tempo viveva nella paura e nel ricatto. Filippo Munnia, 46 anni, approfittava del suo ruolo dibadante ed inviava lettere minatorie con le quali periodicamente esigeva soldi. E' stato arrestato dai carabinieri di Falcone e accusato di tentata estorsione aggravata, furto aggravato ed illecito utilizzo di carta a Bancomat. Le indagini che hanno portato all'emissione del provvedimento di misura cautelare nei confronti del 46enne barcellonese sono scattate dopo che l'anziana vittima si è rivolta ai familiari che a loro volta hanno chiesto supporto alle locali associazioni anti-racket. Allertati dunque i carabinieri. Munnia è stato colto in flagranza di reato dalle telecamere collocate dai militari dell'arma fuori dall'abitazione dell'85enne. L'anziano ha fatto finta di cedere mettendo nella propria cassetta della posta delle banconote fotocopiate, proprio per il valore di 200 euro. Il 46enne ha prelevato la busta e così sono scattate le manette.